Pensate a una persona che ha 75 anni, 80 anni, quindi un anziano che viene tolto all'improvviso dal proprio domicilio e si ritrova in un ambiente completamente diverso dall'ambiente in cui è abituato, pensate a una persona con demenza. Ritornare rapidamente a domicilio significa iniziare a far rivivere, a fargli appropriare degli spazi che conosce e serve soprattutto a migliorare il recupero. Promuovere la permanenza a casa delle persone non autosufficienti e migliorare così le loro condizioni di vita, questo è infatti l'obiettivo principale di Atedom. Si tratta di un'iniziativa della zona distretto a retina per promuovere le cure domiciliari per le persone non autosufficienti. È un progetto che è stato finanziato dal Fondo Europeo e la zona distretto a retina partecipa quindi insieme alla regione toscana a questo bando. Ci sono circa 900.000 euro che servono sostanzialmente a garantire assistenza a persone con demenza, persone con decadimento cognitivo, a minori con disabilità per garantire una continuità tra le variazioni che possono in questo modo garantire e soprattutto facilitare il rientro a domicilio in maniera più rapida per evitare quindi una permanenza più lunga negli ospedali oppure anche eventuali re-ricoveri all'interno degli ospedali. 4. Gli interventi che riceveranno un finanziamento. L'azione 1 prevede l'assegnazione di cure domiciliari erogate dall'osso al fisioterapista in seguito a una dimissione ospedaliera. L'azione 2 prevede delle prestazioni a domicilio erogate dall'osso dal fisioterapista o interventi di sostegno psicologico e di formazione dei caregiver in favore delle persone affette da demenza o Alzheimer. L'azione 3 invece prevede l'erogazione di contributi economici in favore degli anziani over 65 o di età inferiore con condizioni di disabilità gravi ai sensi della legge 104 per fronteggiare il costo di un assistente familiare contrattualizzato. L'azione 4 è la novità del progetto per la zona distretta retina e in favore dei minori con condizioni di disabilità certificata ai sensi della legge 104 senza condizioni di gravità e prevede l'assegnazione di buoni servizio con figure socioeducativi e socioassistenziali quali lo psicologo, l'educatore o l'osso in favore dei minori al proprio domicilio.